Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus dal 2009, è la compagna che lo affianca costantemente nei suoi impegni televisivi più significativi, tra cui la conduzione del Festival di Sanremo. Essendo sua partner nella vita, condivide con lui anche i momenti di tensione inevitabile. Presto la vedremo di nuovo al timone dell'importante Kermesse, ma nessuno può dimenticare lo sfogo di Giovanna durante un episodio della vita in diretta andato in onda nel febbraio dello scorso anno. Durante la puntata dedicata al terzo Sanremo di Amadeus, la ballerina e scioguerle ospite di Alberto Matano non è riuscita a trattenere le lacrime. Matano le ha chiesto delicatamente se si era emozionata, notando una lacrima scappata. Con voce rotta dalle lacrime di commozione, lei ha risposto senza giri di parole, «Sono orgogliosa, se lo merita. È proprio bravo». Durante questo momento, Anna Pettinelli, ospite in studio, ha evidenziato il forte legame che unisce la scioguerle al marito, al punto da commuoversi per i suoi successi, un segno di amore autentico. Matano ha poi commentato l'abilità di Amadeus, riconosciuto da tutti come l'artefice di questo meraviglioso Sanremo e di quelli passati. È evidente che dietro questa emozione c'è una grande passione e un notevole lavoro. Giovanna, facendo un cenno con il capo, ha condiviso le parole del giornalista, confermando il loro legame speciale.